Mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere. Grazie. Quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re. Si tratta dei bambini, caro? Sì, sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle sei io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione. Giorgio, sono spariti. Venone, Venone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Sono signor del maniero, il capo, il re, di cui i vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblessobliche. Le sei e tre e i miei teneri rampolli, ma tendon già nutriti a sazietà. Verranno a farsi benedire, poi subito a dormire. Io vivo proprio come un re.